Sì, sono sicuro, l'ho visto l'altro ieri che mangiava dei bicchieri, stava insieme a venti e un uomo di sé, e poi l'ho visto l'altro giorno, con un fumetto a porno per preparare il pulito, e poi mi è capitato nel letto il ruolo sentadetto, con il vestito stretto, si era vestito di giallo insieme a un pappagallo che lo trainava verso il cielo, ma dopo il disgelo è scappato dal cielo e si riparano con un treno, l'uomo, il brigante, l'assassino, non era altro che un bambino che volava sul suo cavalino, l'uomo, il brigante, l'assassino, non era altro che un bambino che volava sul suo cavalino. Ho incontrato un uomo russo con il violino, alle prese con un mandarino e con l'angelo divino, e poi un'aquila senza penne, reinata da cento renne, dell'acqua e del centro, e poi la maga ha asciugato il pianto dell'udignolo santo e del mercante santo, e si sono divisi leppi e tordi all'urgo cieco di mille sordi al crescento e l'assassino, E l'uomo, il brigante, l'assassino, non era altro che un bambino che volava sul suo cavalino. L'uomo, il brigante, l'assassino, non era altro che un bambino che volava sul suo cavalino. L'uomo, il brigante, l'assassino, non era altro che un bambino che volava sul cavalino. L'uomo, il brigante, l'assassino, non era altro che un bambino che volava sul cavalino.